E' Fumio Kishida, il nuovo premier del Giappone. Appena eletto dal Parlamento, il liberal democratico Kishida dovrebbe pronunciare un discorso di indirizzo politico entro la fine della settimana, prima di sciogliere la Camera Bassa in vista delle elezioni generali previste per metà novembre. Il neopremier intende rinnovare almeno 18 dei 20 ministri nominati dal suo predecessore, nonché compagno di partito Syuga. Ben 13 rappresentanti di quello che secondo i media giapponesi sarà il suo esecutivo sono alla prima carica ministeriale. Ex ministro degli esteri, Kishida intende rafforzare i legami di sicurezza con gli Stati Uniti e le relazioni con altre democrazie in Asia, Europa e Gran Bretagna. Tra le priorità c'è il contrasto alla Cina e al programma nucleare della Corea del Nord. Il neopremier dovrà poi vedersela col carlo di popolarità del suo partito, che sconta la mano pesante di Syuga sulla pandemia ed altre questioni, come l'organizzazione dei giochi olimpici di Tokyo.